Cosa devo fare? Sorridi e cerca il contatto visivo. E se qualcosa non funziona? Ricorda di fare domande che iniziano con chi o cosa. Se vuoi più di un semplice sì o no come risposta. Il resto verrà da sé. Li porti nella tua letta e fai sesso con loro. E se fosse sgradevole? In tal caso pensa al sacchetto di cioccolatini. E se vuoi più di un semplice. E se vuoi più di un semplice. E se vuoi più di un semplice. E se vuoi più di un semplice.